Beh, guarda, non è un caso, mi ricordo che quando gli Stati Uniti hanno invaso l'Iraq, la prima cosa che hanno fatto, tra le prime, sono entrati nei tempi, hanno fatto razzia di tutti i documenti antichi, e come mai, chissà come mai, forse perché se manipoli la storia, il passato, ovviamente, puoi provare a dare un'idea di futuro, però così, secondo me, non sta andando. Questo risveglio è davvero grande, o no, Pier Giorgio, e si ritrova una parte di popolazione che non li crede assolutamente più, perché quando tu mi prendi per il culo una volta, due, tre, la quarta, ragazzo mio, va bene tutto, ma è dura, e mi viene da pensare, anche se mi ha preso per il culo oggi, Mari, forse anche nel passato l'hai fatto. Assolutamente sì, Riccardo. Ripeto, questa manipolazione va avanti da molto tempo, perché l'idea del nuovo ordine mondiale è un'idea partorita già qualche secolo fa, e ovviamente questo significava una manipolazione sempre più penetrante, sempre più pervasiva di tutto ciò che era anche il concetto stesso di vita. Ad esempio, ti faccio una cosa che è allucinante, per quanto sono sottili e attenti a queste cose, ad esempio, hanno tolto i colori alla luna, cioè la luna ce l'hanno fatta vedere grigia, ma perché la luna deve essere grigia? Intanto, quando noi vediamo la luna nel cielo, non la vediamo grigia, la vediamo gialla, però poi le foto o i film o i documentari ce la mettono sempre questa luna grigia, perché l'essere umano deve sentire la sua condizione alienata, sola, solitudine. L'essere umano deve sentirsi solo, deve sentire che l'unico luogo dove può esistere è questo pianeta, che non c'è sbocco da nessun'altra parte. Ora qualcuno dirà, ma che dice Caria? Ma guardate che oggi, fate una cosa, andate su Google Immagini e cercate pietre e sabbia lunare e troverete che i sassi della luna sono marroni, grigi, gialli come quelli terrestri e così la sabbia della luna. Se la luna è fatta dagli stessi elementi chimici della terra, perché deve essere grigia? Mica ci hanno fatto un mega barbecue e quindi hanno riempito tutta la superficie lunare di cenere. Quindi c'è un atteggiamento in queste menti raffinatissime, come le definì Falcone, di creare nella mente del popolo questa condizione di solitudine, perché la condizione di solitudine ti fa sentire debole, la condizione di debolezza ti rende permeabile di tutte le strategie di separazione e di dominio. Che ne so, film come Interstellar, che è un film straordinariamente fatto bene, ma dove il leitmotiv è questo, siamo soli, siamo in un piccolo pianeta che vaga nell'universo e esistiamo solo noi. Quindi questa è un'idea alienante ed è un'idea di indebolimento del concetto stesso di esistenza umana che porta poi con più facilità alle logiche del dominio. Quindi chi lavora a questi progetti? Riccardo ci lavora avendo comunque a disposizione fondi economici limitati, ci lavora con la creme della creme della scienza, che ovviamente abbraccia tutte le sfere della natura dell'uomo e sono in grado di manipolarci a livelli veramente impressionanti. E se non fosse così, io mi chiederei come è possibile che di fronte alla sfacciataggine, alla menzogna veramente depravata con cui i potenti oggi parlano, come ha parlato Biden all'ONU, come fa il popolo a non rendersi conto? Quindi quello che dici tu è assolutamente vero, mi hai preso per il sedere una volta, due volte, tre volte e alla fine basta. Ma alla fine, Riccardo, dobbiamo anche essere sinceri, comunque siamo ancora una minoranza, non siamo la maggioranza.